Valerio Conti indossa la maglia rosa e poi sarà qui, sarà qui al processo. Ecco, anticipando qualcosa, queste condizioni, cioè il freddo, la pioggia, diciamo in una prima parte di giro che non doveva essere così faticosa, così esasperata, in attesa delle montagne, stanno creando una difficoltà in più, in attesa per tutti quanti e per quelli che hanno le ambizioni più alte, cioè la vittoria finale, i primi posti. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, in effetti questo inizio di giro è decisamente impegnativo, le tappe sono lunghe, come quella di oggi lunghissima, 240 km, il meteo la rese decisamente più impegnativa e più dure per i corridori. Fino adesso non hanno avuto giornate di riposo, diciamo che la prima parte è sempre quella più lunga per arrivare al primo giorno di riposo, perciò in tanti stanno aspettando appunto questo e nel frattempo domani ci sarà un appuntamento per quelli di classifica molto molto importante. Ieri nella tappa vinta da Bilbao? Grazie a tutti.